Voglia di uno snack saporito ma leggero? Non puoi non provare i ceci croccanti. Scuola i ceci in marattolo, non buttare l'acqua. Ti faremo vedere come utilizzarla nel prossimo video. Versali su una teglia e spezia con olio in polvere, paprika e rosmarino. Aggiungi l'olio d'oliva e l'amido di mais. Mischia bene e inforna per 20 minuti a 190 gradi. Croccanti e saporiti, potrai mangiarli come fossero noccioline oppure aggiungerli nelle tue insalate.